Bella raga e bentornati nella cucina di Cantina Social. Io sono Adriano e oggi si rincomincia con il wine pairing e per farlo al meglio abbiamo scelto due realtà a noi molto molto care. La prima è il consorzio delle Venezie con questo pinot grigio dalle grandissime sfaccettature, l'altro invece è il nostro grande amore per le puntarelle. Quindi oggi si abbinano una cosa molto fresca insieme a una verdura davvero invernale ma allo stesso tempo molto saporita. Partiamo subito con il principe del piatto, le puntarelle. Dopodiché abbiamo le acciughe, un altro grande massa dei nostri wine pairing che è il risacquerello e poi tutto quello che servirà necessario per poter fare una bella crocchetta fritta. Quindi farina 00, farina di mais e ovviamente due uova. Si parte subito tostando il risotto come se fosse un classico risotto che però verrà tenuto indietro di 4-5 minuti di cottura in modo tale che poi venga finito durante la frittura della crocchetta. Quindi lo si tosta fino a quasi non poterlo più toccare in mano e dopodiché lo si sfuma o con il brodo o con il vino un po' a seconda delle proprie tradizioni. Si fa la parte più bella di tutte che è andare a cercare il tesoro nascosto della cicoria, queste puntarelle. Questo frutto che praticamente ha un cuore veramente fresco ma che ha anche una consistenza croccantissima che a me piace proprio tanto e che soprattutto è adatta a tantissime preparazioni. Quindi dopo che lo si è snocciolato lo si prende, lo si taglia fine 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 e dopodiché lo si mette a marinare in modo tale da avere la croccantezza ma soprattutto anche questa nota amarognola davvero molto interessante che si sposerà benissimo con il pinot grigio. Una volta tagliate sottilissimi si mette l'olio, il sale e dentro due acciughe in modo tale da dare un po' di gusto e soprattutto un fil rouge anche con la crocchetta che adesso vedremo come si fa. Soprattutto per questi pinot grigio, uno dei due, al suo interno ha anche una piccola sorpresa che però non vi svelo ancora. Quindi andiamo a ingentilire ed arricchire questo risotto con le acciughe, le facciamo sciogliere al suo interno e prendiamo anche le parti esterne della cicoria che sarà amarognola ma allo stesso tempo farà ad elegante e vi darà anche questa nota vegetale che si sposerà alla perfezione con le note primarie dei pinot grigio. Quindi lo si mette semplicemente dentro la pentola e lo si lascia stufare insieme al riso. Dopodiché si passa all'impanatura, la classica impanatura che verrà fatta con un nuovo intero in porlo in modo tale da avere anche un po' più di gusto e soprattutto di colore perché l'albume andrebbe poi anche effettivamente a scolorire quello che invece deve anche essere una parte visiva molto importante soprattutto per un piatto del genere. Quindi dopo aver fatto raffreddare il risotto lo si impana, la si coprima nella farina poi come insegnano le nonne lo si puccia dentro l'uovo e poi lo si rimpana dentro la farina di mais in modo tale da avere quello che gli dà l'amalgama ma poi soprattutto la croccantezza. La parte davvero fondamentale anche per l'effetto wow che ormai nei piatti è veramente importante. Quindi io in questo caso ho voluto fare una forma rettangolare ma voi potete scegliere qualsiasi forma per la vostra crocchetta. Voilà, la si mette poi dentro l'olio caldo. Mi raccomando l'olio deve essere a 170 gradi in modo tale da avere sicuramente anche una parte dorata. Io l'ho tenuta a friggere per 3 minuti in modo tale da avere un bel colore dorato che sia comunque dentro ancora un po' caldino, un po' croccante ma che fuori veramente sia un'esplosione sotto i denti. Dopodiché si passa all'impiattamento, semplicissimo, si mette al centro del piatto questa nostra crocchetta che sarà anche un pochettino da piatto stesso e sopra gli si mettono queste puntarelle arricchite dall'acciughe. Così noi abbiamo il nostro piccolo appetizer che ben si sposa con questi due vini che effettivamente sono due vini che vanno benissimo per l'aperitivo anche perché sono due vini che hanno una vinificazione molto particolare e diversa ma allo stesso tempo hanno un fior rouge con la freschezza che il Pinot Grigio delle Venezie vuole proprio andare sempre a raccontare nonostante siano di diversi territori. Infatti abbiamo a che fare con il primo vino che ha una sosta sulle fecce fini di addirittura più di 70 giorni arrivando fino in primavera in modo tale da avere una ricchezza, una struttura maggiore ma che soprattutto si sposi bene con la persistenza dell'acciughe in modo tale da avere un piatto che vada fino in fondo alla tua bocca e te la riempia con grandissimo gusto. L'altro invece che è quello con la sorpresa è questo osso duro della mazottina che al suo interno ha una piccola percentuale di chardonnay questo che cosa comporta? Un aumento della struttura, una volgenza davvero interessante che insieme a questo risotto comunque condito con l'acciuga ben si sposa e che soprattutto va di pari passo con la persistenza di questo vino che nonostante sia molto fresco ha veramente un retrogusto importante, molto delicato ma allo stesso tempo molto persistente. Beh, non c'era modo migliore per incominciare il 2021 io le puntarelle le mangerei tutto l'anno peccato che siano prodotti prettamente invernali quello che non è invernale è sicuramente il pinot grigio quindi state con me perché torneranno questi prodotti del consorzio ma soprattutto io tornerò in cucina molto più spesso rispetto a prima quindi alla prossima puntata, bella! Ciao! 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 Grazie per la visione!